Ciao a tutti e bentornati sul canale del gruppo facebook un libro tiro all'altro ovvero il passaparola dei libri il gruppo che sta dalla parte del lettore in questo canale scegliamo e leggiamo per voi le migliori recensioni pubblicate sul nostro sito non si tratta sempre dell'ultima novità ma di libri che ci sono piaciuti di nicchia a volte insoliti qualche volta dimenticati comunque sempre da scoprire e riscoprire oggi parleremo di un autore famosissimo quindi sicuramente non da riscoprire ma parleremo di uno dei suoi primi romanzi anche tecnicamente forse il suo primo romanzo che invece non è poi così famoso oggi infatti parleremo di nel segno della pecora un romanzo del 1982 scritto da haruki murakami fu pubblicato in italia nel 92 col titolo sotto il segno della pecora dall'editore longanesi con la traduzione di anna rusconi ma oggi lo trovate credo anche in una traduzione lo trovate nell'edizione in audi con una nuova traduzione di antonietta pastore e col titolo con cui è noto quindi nel segno della pecora ma credo anche che sia una versione riveduta a sua volta da murakami stesso è il primo romanzo di murakami perché comunque vent flipper che è effettivamente una pubblicazione precedente non si tratta di romanzi ma di due racconti e come accade spesso in un'opera prima o comunque in un'opera giovanile non esente da difetti ma rivela già molto del tipo di scrittore che l'autore aveva in mente di diventare una pubblicazione mostra in un inserto pubblicitario una vecchia foto raffigurante un grigio qualche tempo dopo il grafico autore del servizio viene contattato dal braccio destro di un anziano ideologo dell'estrema destra noto col titolo di maestro dopo essersi visto affidare l'insolito incarico dell'intracciare una delle pecore della foto il protagonista che peraltro non ha nome parte per lo kaido in compagnia di una bizzarra ragazza che sembra dotata di poteri paranormali in questo romanzo murakami affronta già le tematiche che saranno la base della sua letteratura più riuscita l'analisi del mondo attraverso le percezioni personaggi presentati attraverso la loro funzione e non attraverso il nome le atmosfere surreali e quasi magiche la forte componente introspettiva la ricerca vista come essenza dell'esistenza sono già elementi che caratterizzano questo suo esordio tuttavia al giovane scrittore manca la capacità di amalgamare questi elementi in modo sapiente facendo sì che diventino parte integrante della storia e non accenni poco risolti in una trama che rischia più volte di deragliare verso l'assurdo il romanzo merita comunque una lettura per il modo in cui l'autore affronta il problema della perdita di identità del suo paese anche da parte della generazione a cui appartiene lo stesso scrittore ne descrive la storia di un ideologo dal destino legato a quello di una pecora magica c'è una forte critica molta sfiducia nei confronti della politica e di coloro che detengono il potere lasciando morire il potenziale di un paese come si può cogliere dalla maninconica descrizione della degatente piccola cittadina dell'okkaido in cui si svolge parte della storia o più apertamente nella vicenda dell'anziano hainu che ha perso un figlio in una guerra che non capisce e che non gli appartiene e che si abbandona sfinito a eventi che davvero non comprende quindi nel segno della pecora è una lettura sicuramente non banale e di certo interessante ancorché imperfetta comunque ritengo potrà interessare sia gli stimatori di murakami che sono veramente tanti sia i lettori che cercano una lettura insolita comunque diversa dalle solite proposte se avete letto questo libro e volete discuterne con noi iscrivetevi al nostro gruppo facebook visitate il nostro sito o seguiteci su instagram trovate il link nella descrizione sotto se vi è piaciuto il video non dimenticate di lasciarci un like e di condividerlo con i vostri amici a presto e buone letture